I corsi SMB sono rivolte agli studenti di musica più piccoli, dai 5 agli 11 anni di età. La scuola di musica di base utilizza una colana di libri denominata Prima Musica, che adotta un moderno e originale sistema di unità didattiche che velocizza l'apprendimento e appassiona gli studenti facendo sì che, fin dalle prime lezioni, essi possono suonare brani gradevoli e gratificanti. Ciò riduce, praticamente, nelle scuole di musica primaria il numero degli abbandoni. I corsi di SMB prevedono tre livelli di studi, a termini dei quali lo studente ottiene la licenza Lizard che gli consente a coloro che vogliono continuare gli studi di accedere ai corsi SPM. Scuola Primaria di Musica I corsi di SMB sono svolti solo da insegnanti abilitati, appositamente selezionati e addestrati nell'uso ottimale dei libri della collana Prima Musica. I corsi di scuola di musica primaria sono adatte agli studenti dagli 11 ai 15 anni e, in generale, a tutti coloro, anche adulti, che vogliono avvicinarsi al mondo della musica attraverso uno studio più graduale e divertente dello strumento. Ciò è garantito dall'adozione dei libri della collana Lizard, nata con la collaborazione della ditta Ricordi. Essa rappresenta una delle più importanti e innovative iniziative editoriali, ma realizzate nella didattica musicale moderna. La scuola primaria di musica prevede quattro livelli di studio. Al termine del quarto livello viene rilasciato l'attestato Lizard di scuola primaria di musica, che consente a chi vuole continuare gli studi l'accesso al primo livello di scuola superiore di musica Lizard. Anche i corsi di scuola di musica primaria sono svolte esclusivamente da insegnanti abilitati Lizard selezionati e addestrati per seguire scruposamente la didattica di questa collana SPM. I corsi di scuola superiore di musica sono riservati agli studenti adulti oltre 15 anni di età. Già appassionati e ben motivati per corso SSM accademico e agli aspiranti professionisti per corsi SSM professionali. I corsi SSM prevedono quattro livelli di studio, al termine dei quali lo studente può sostenere l'esame di diploma accademico o di diploma professionale. Chi non aspira al diploma può fermarsi a secondo o terzo livello ed ottenere la licenza Lizard di secondo o terzo livello. Da notare che i livelli non corrispondono agli effettivi anni di studio. Ogni livello può essere svolto più o meno in un anno e ciò dipende dal tempo che lo studente può dedicare allo studio e alla sua velocità di apprendimento. Per maggiori informazioni puoi visitare il nostro sito oppure inviarci una mail o chiamare il numero 347 37 94 028. Per maggiori informazioni puoi visitare il nostro sito e anche per maggiori informazioni puoi visitare il nostro sito e anche per maggiori informazioni puoi visitare il nostro sito Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.